Monsignor Guglielmo Borghetti, vescovo di Pitigliano Sovana Orbetello, è stato uno dei vescovi concelebranti alla festa della Madonna del Conforto, alla messa pontificale. Monsignor Borghetti, lei era la prima volta che partecipava a questa celebrazione e si rendeva conto di persona, di cos'è la devozione popolare nei confronti della Madonna del Conforto qui ad Arezzo? Sì, in effetti è la prima volta, sono quattro anni che ormai sono vescovo di Pitigliano, sono quattro anni che Monsignor Fontana, Monsignor Riccardo mi porge l'invito ad esserci, negli anni precedenti non ho mai avuto la possibilità, quest'anno mi sono proprio prefisso di venire a vedere, perché questo era un po' l'appello vieni e vedi di Monsignor Riccardo e in effetti il contesto della festa è stato per me estremamente emozionante sotto il profilo popolare, sotto il profilo soprattutto religioso, mi ha riconvinto ancora di più di quello che è il potere calamitante della Madre di Dio, Maria Santissima nei confronti della nostra gente che si aduna con la certezza che accolta, ascoltata, non quindi un mero fatto di tradizione superficiale ma si avverte che c'è un qualche cosa che va più a fondo. Provoca una certa emozione vedere questo fiume di persone che praticamente dall'alba, prima ancora dall'alba, dalle 6 di stamani, passa davanti a questa piccola immagine, lascia un cero, si fa a benedire, fa una certa impressione. Decisamente, soprattutto anche questi omaggi floreali che sono lì per grazie ricevute, le tante persone che si accostano al sacramento della comunione, che vivono intensamente, anche se a un certo punto sentivo questo brusio e dicevo mamma mia c'è troppo brusio, però poi in realtà si comprende che non è troppo il brusio, è troppa la gente, quindi anche se uno semplicemente alza un attimo, un secondo la voce per pregare avviene un qualche cosa di meraviglioso, ecco è una sinfonia credo che sia molto gradita al Signore. E anche la comunione tra noi Vescovi presenti, che abbiamo partecipato volentieri oggi, tra l'altro avevamo anche una ragione in più per essere insieme felici ed è stata la presenza del Vescovo Monsignor Gualtiero Bassetti che è stato accolto con un lunghissimo applauso, grande affetto. Sì, bellissima, con grande affetto, molto palpabile, del resto sono poco più di 4 anni che lui manca da Arezzo e quindi è chiaro che ha lasciato una traccia profonda e indelebile con il cuore degli aretini. Insomma, un susseguirsi di sensazioni, emozioni, pensieri e anche di tanta preghiera perché in realtà poi è bello anche riuscire ad immergersi nel mistero di Dio e nel senso della presenza di Maria nel cammino della nostra vita anche proprio soprattutto in questi momenti dove si è popolo, dove ci si sente gente del Signore che è radunata proprio nel nome della Trinità a vivere questo tempo sacro di preghiera. Davvero si avverte il senso di un'appartenenza al mistero della Chiesa fortissima. Monsignor Fontana, si rinnova l'evento della Madonna del Conforto perché tutti gli anni è un evento, è veramente una grande festa, devozione popolare, tutti gli anni un'emozione nuova. Certamente sì ed è molto bello che Arezzo risponda in maniera massiva a questo momento, a questo appuntamento. Io chiedo alla Madonna che la fede me la diluisca nell'anno, che sia presente in ogni giorno e ogni aretino trovi conforto davvero affidandosi al Signore. Credo che la Madonna ci riuscirà. Lei ha fatto anche una richiesta particolare alla Madonna, le vocazioni sacerdotali. Sì, io credo che sia importante recuperare la dimensione soprannaturale della vita. La gente starà meglio se riuscirà a capire che con l'aiuto di Dio si vive da persone umane, giuste e in questo contesto giovani e famiglie torneranno ad apprezzare il sacerdozio. Quest'anno c'era un motivo di festa in più. Lei ha voluto fortemente che a presiedere la messa pontificale fosse Monsignor Gualtiero Bassetti che sarà creato cardinale il prossimo 22 febbraio e la sua ex diocesi gli ha tributato un'accoglienza davvero calorosa. Io ero certo sia della risposta del popolo che dell'accettazione del cardinale perché mi sembra giusto che Arezzo abbia avuto l'occasione di pregare insieme con il nuovo porporato in prossimità della sua formale istituzione, creazione tra il novelo dei cardinali. Monsignor Gualtiero Bassetti, arcivesco di Perugia, città della Pieve, è tornato nella sua Arezzo, lo possiamo dire, su Arezzo per questa festa della Madonna del Conforto. Ha presieduto la concelebrazione, la messa pontificale come di fatto cardinale in vista ormai del prossimo 22 febbraio. Monsignor Bassetti, che emozione ha provato quando è entrato in cattedrale, c'è stato un lunghissimo applauso che poi si è ripetuto anche dopo quando è entrato nella cappella della Madonna del Conforto. Davvero tanto affetto da parte dei suoi ex diocesani. Sì, succede poi anche così che mentre il Vescovo è regnante, insieme alle consolazioni c'è anche le difficoltà, perché deve dire dei sì, deve dire dei no alla gente e quindi è un po' diversa. Uno ritorna e dopo dieci anni ognuno si ricorda il suo aneddoto, le cose belle, l'affetto del Vescovo e così il tempo addolcisce e sublima tutto. E io ho avuto questa, la chiamo una carezza della Madonna, è tornata anche il bel tempo dopo tanti giorni e mesi di pioggia. Quindi avevo bisogno certamente dell'affetto della Madonna e anche dell'affetto della mia gente, di Arezza, di Perugia, anche tanto da massa marittima, perché il Papa, veramente io ci ho riflettuto tanto, mi ha chiamato ad un impegno che reputo anche al di sopra delle mie forze per tanti motivi, anche per l'età, ma anche per i tanti impegni che ho già nella Chiesa, la congregazione dei Vescovi, l'ecumenismo, la vicepresidenza della CEI, cercare di far bene tutte le cose veramente quando si ha una certa età e anche più fatica. E allora questa carezza della Madonna del Conforto, che fu la prima a cui pensai quando mi arrivò la nomina del Cardinalato e anche questo grande affetto della gente, veramente sono stato un grande allenimento per me, ecco, qualche cosa che mi ha riempito proprio di gioia. Ecco, proprio nell'intervista che rilasciò alla nostra emittente all'indomani della notizia della sua creazione a Cardinale, disse appunto che il primo pensiero era andato subito alla Madonna del Conforto. Oggi lei ha voluto fare una preghiera personale proprio sua, recitare una preghiera alla Madonna del Conforto, per chiedere cosa? La mia omelia è stata più un insieme di ricordi messi insieme, è stata tutta un'invocazione per il popolo, per i giovani, per le necessità della Chiesa, per la crisi in cui ci dibattiamo, che ho detto non è una crisi soltanto economica, ma morale, antropologica. E quindi alla fine ho sentito proprio il bisogno di allargare le braccia e di dire a Maria facci sperimentare la dolcezza e la serenità del tuo volto, perché in questo momento storico ne abbiamo particolarmente bisogno. Ecco, in un passaggio dell'omelia lei ha parlato di nuovo umanesimo, quindi di riportare l'uomo al centro, è quello che abbiamo bisogno in questo momento da un punto vista anche, come dire, culturale, sociale. Sì, io ho detto che appunto riportare l'uomo al centro non significa soltanto esaltare la sua fisicità e le sue esigenze materiali, che è importante anche quello, ma l'uomo ha una dimensione spirituale e soprannaturale e quindi se non si tiene conto anche di questo fatto, l'umanesimo sarà sempre incompleto, perché il vero modello di uomo è soltanto Gesù Cristo. Tra i tanti pensieri che ha avuto per gli anziani, le famiglie, però ha avuto un pensiero particolare per i giovani e gli ha indicato la strada attraverso proprio la Madonna del Conforto. I giovani sempre sono stati presenti al mio pensiero e alle mie cure pastorali anche quando ero qui ad Arezzo, ma ora io assisto ad uno spettacolo continuo che è la piazza del 4 novembre di Perugia e anche le vie del centro che sono piene di ragazzi e spesso li vedo veramente così assenti nei loro pensieri, quasi distratti, camminano con un bicchiere enorme di birra, ecco non si sa che cosa stiano pensando, non si sa nemmeno talvolta se hanno piena coscienza, purtroppo c'è il fenomeno della droga. Allora io vedo questa umanità ferita, dietro la quale poi c'è anche tutta una serie evidentemente di interessi e mi sento proprio bruciare dentro dal desiderio di dirgli che la vita è bella, che vale la pena di essere vissuta e Maria può dire ai giovani, lei che è una giovane, quella cosa bellissima che ha detto ai servi della parabola delle nozze di cana, della parabola, non è una parabola che ha detto appunto alle nozze di cana con queste parole, fate tutto quello che lui vi dirà, in fondo poter aiutare, additare ai nostri ragazzi Gesù Cristo e il suo Vangelo, fate quello che lui vi dirà, non fate cadere a vuoto neppure a una delle sue parole. Grazie, a questo punto ci diamo appuntamento sabato 22 febbraio, lo diamo anche ai nostri telespettatori, in quell'occasione per il concistoro in San Pietro, nel corso del quale lei sarà creato cardinale. Grazie. Grazie, grazie di cuore, anche per questa occasione che mi avete offerto di poter stare ancora un po' vicino alla mia gente. I mezzi della comunicazione sociale sono meravigliosi. Grazie. Grazie.